Napoli-Sassuolo è stato solo un incidente, ha detto Rafa Benitez in conferenza stampa. Il Napoli è già proiettato al prossimo impegno contro il Genoa a Marassi. Allora ascoltiamo le parole del tecnico spagnolo sul prossimo impegno del Napoli. Ho deciso che dopo fare tante conferenze stampa seguita poteva essere Fabio per farla, che farà qualcuna nel futuro, ma questa ho deciso che era meglio, vengo qua, così nessuno dice no dove è Rafa, qua e parliamo. Ho fatto errori che dobbiamo migliorare durante l'allenamento per non farlo più, ma l'atteggiamento è buono e mi aspetto la stessa idea, una squadra che deve lottare fino al fine, una squadra che deve giocare il suo calcio e chi si dobbiamo sistemare qualcosa per vincere questa partita, dobbiamo farlo e basta. Noi sappiamo che dopo due o tre partite la intensità cala, è normale. Qualcun giocatore può giocare e ancora fa la differenza, ma il calcio non è 100% una cosa che si può controllare. Non parliamo di titolarissimi, non parliamo di se devono giocare questi giocatori e gli altri non possono giocare. No, per me tutti possono giocare, è una questione di lavoro, di tempo, di intesa tra loro, è un allenatore nuovo che deve spiegare cose perché alla fine la rossa sarà la che farà la differenza se vogliamo arrivare fino al fine con la possibilità di vincere qualcosa. Mi sembra che se noi facciamo le cose bene la squadra può lottare. Grazie a tutti. Grazie.